ciao ragazzi bentornati all'appuntamento con il venerdì della maglia oggi riprendo un pochino quelli che sono i video di tecnica e vi faccio vedere l'avvio il dritto e il rovescio con i ferri circolari la tecnica sia continentale che all'inglese perché rifaccio questo video nelle playlist voi trovate già i video dell'avvio e del rovescio ma siccome sono i primi video che avevo fatto e non hanno una buona inquadratura molti di voi mi hanno suggerito di rifarli quindi spendiamo 10 minuti per riguardare un po l'avvio e il dritto e il rovescio di cosa abbiamo bisogno dei nostri ferri circolari e di un filato prima cosa che dobbiamo fare è l'avvio come faccio a capire quanto filo mi serve per poter avviare il numero x di maglie che mi servono vi avevo mostrato già un metodo che è quello di andare ad avvolgere il filo a forma di 8 attraverso il pollice e il mignolo ogni volta che formate un 8 sono circa 10 maglie quello che io vi raccomando è di tenere il pollice il mignolo ben distanziato e la mano ben aperta e di avere il filo molto morbido se deve avviare 40 maglie farò 8 scusate 4 giri a forma di 8 attorno alle mie due dita io consiglio sempre di fare mezzo giro in più o addirittura un giro in più perché è meglio stare larghi avere un po di codina che poi andremo a nascondere nel nostro lavoro piuttosto che non avere filo un altro metodo invece che potete utilizzare è quello di andare ad avvolgere attorno al vostro ferro il filo tante volte quante sono le maglie da avviare ogni volta che vedete l'avvio è una maglia quindi 5 6 7 8 9 10 e così via in questo modo più o meno avrete quanto filo dovete lasciare per poter avviare il numero di maglie che vi serve fatto ciò cominciamo ad avviare il nostro lavoro ci sono tanti tipi di avvio innumerevoli quello che vi faccio vedere qui è quello che preferisco e che per me è molto semplice quindi una volta deciso quanto filo dobbiamo lasciare per il nostro numero di maglie da avviare non facciamo altro che prendere il nostro filo posizionarlo sul ferro fare una torsione dei due fili in questo modo posizionando la coda verso lontano da voi e il filo dal gomitolo verso di voi e iniziamo a creare le nostre maglie come facciamo il filo viene posizionato una parte sul pollice una parte sull'indice tenuto stretto nella parte bassa dalle altre dita a formare questa specie di fionda in questo modo dopo di che cosa faremo con il ferro entreremo sotto il filo che viene dal pollice e vedete che si forma un'asola noi centriamo da sotto e dentro andiamo a recuperare il filo che abbiamo sull'indice e lo passiamo attraverso la nostra asola tiriamo leggermente senza stringere troppo e abbiamo formato la nostra seconda maglia e l'operazione si ripete si passa sotto il filo all'interno e vado dentro l'asola recupero il filo che viene dall'indice e lo passo attraverso l'asola mollo il filo tiro e ho tenuto la mia terza maglia di nuovo dentro l'asola recupero il filo lo passo attraverso e tiro via dentro l'asola recupero il filo in questo modo e lo passo attraverso e tiro dentro l'asola prendo il filo e lo passo attraverso io così ho avviato vedete sei maglie ne avvio delle altre almeno una decina o qualcosa di più per farvi vedere dopo come iniziare a lavorare il dritto quindi ho avviato il mio numero x di maglio vedete adesso avete due opzioni cioè ho lavorato con il metodo continentale quindi avendo il filo che viene dal gomitolo a sinistra e lo posizionate sul dito potete farlo scivolare attraverso le dita per avere una maggiore tensione potete attorcigliarlo più di una volta attorno al dito indice insomma diciamo che il metodo è quello che più vi si addice troverete il vostro facendo della pratica io preferisco avere una tensione molto leggera perché mi piace quindi lo faccio scorrere solo sul dito poi dopo lo pinzo con le dita all'interno della mia mano come faccio a fare il dritto con la tecnica continentale basterà infilare il ferro nella maglia andare a recuperare il filo sull'indice facendolo passare sopra il ferro e facendo uscire la maglia attraverso la maglia che sta sul ferro di sinistra ancora entro dentro recupero il filo e lo faccio passare attraverso la maglia entro nella maglia da sinistra verso destra recupero il filo dal basso verso l'alto e lo faccio passare attraverso la maglia entro dentro recupero ed esco fuori entro dentro recupero e porto fuori è molto semplice più vi allenate e più riuscite a acquisire il metodo che più vi si addice in questo modo voi lavorate delle maglie a dritto ok ci sono alcune che lavorano sempre con la tecnica continentale ma prendendo le maglie non come le prendo io da destra verso sinistra ma lavorandole a dritto ritorto quindi anche lì diciamo che è il metodo che vi si addice di più cioè invece di entrare vedete dal davanti verso il retro prendono la maglia da dietro a dritto ritorto in questo modo e la lavorano come se fosse un dritto non c'è niente di sbagliato è solo un metodo diverso in questo modo vedete l'unica cosa è che poi le maglie vi si presentano tutte a dritto ritorto e andranno lavorate sempre a dritto ritorto per essere agevolate nel lavoro io ormai sto facendo questo ferro ve lo faccio vedere invece di prenderne come le prendo di solito io le prendete da dietro vedete infilate il vostro ferro da dietro e recuperate il filo e quindi fate formate la maglia le prendete da dietro recuperate il filo e formate la maglia in questo modo io preferisco lavorarle come vi ho fatto vedere nel primo ferro che ho fatto perché per me è più semplice poi perché sono abituato a lavorarle in questo modo una volta che vedete avete girato ripartite e quindi questo è il metodo che io preferisco prendendole dal davanti e lavorate il dritto con la tecnica continentale in questo modo lavorando tutte delle maglie a dritto sapete che ottenete la maglia legaccio che è una delle basi del lavoro a maglia ok laddove siate pratiche della tecnica continentale potete provare a lavorare con quella lingrese ovvero filo classico sulla destra del lavoro e normalmente infiliamo il ferro buttiamo il filo sul ferro e estraiamo la maglia anche qui ci vuole un po di abilità io preferisco il metodo continentale perché mi dà una certa continuità ci sono alcuni che con questa tecnica non lasciano mai il ferro vedete che io non sono abituato quindi mollo il ferro di destra per gettare il filo alcune sono talmente brave e hanno una certa praticità per cui non mollano mai il ferro anche lì è questione di abitudine e di praticità più uno si allena più acquisisce la tecnica che vi vi si addice e fate la stessa cosa non fate altro che dei dritti con la tecnica classica che conoscete facciamo un altro giro a dritto infiliamo buttiamo il filo sul ferro e portiamo fuori filo sul ferro e portiamo fuori filo sul ferro e portiamo fuori e si continua così questa è la classica tecnica all'inglese vi ripeto ognuno di voi potrà scegliere il metodo che più gli si addice o gli si addice scusate o che rende il lavoro più omogeneo e anche veloce perché se dobbiamo costruire un piccolo capo bene ma se dobbiamo fare un maglione magari avviene anche un po di velocità non guasta perché ci permetterà di arrivare a meta alla fine del nostro progetto con più rapidità bene maglia legaccio maglia a rovescio e qui si aprono le porte del dell'incognito anche qui 10.000 metodi ognuno è il suo chi dice che uno è meglio dell'altro è vero lì ragazzi dipende sempre dalla vostra praticità quello che io preferisco con il metodo continentale è il rovescio alla norvegese che è quello più articolato ma una volta che l'ho imparato è quello più semplice a mio avviso e che vi permette di avere delle maglie omogenee sempre sul rovescio e sono delle maglie bellissime cosa faccio io porto direttamente il filo nel davanti andandolo a prendere col ferro cioè non mi porto il filo nel davanti del lavoro così lo lascio sempre sul dietro come se dovessi fare un dritto prendo il filo passandolo sul ferro entro nella maglia a rovescio dopodiché cosa faccio mi aiuto col dito blocco le due maglie giro il ferro e vado a recuperare il filo come se dovessi fare un dritto me lo porto nel davanti del mio lavoro e lo faccio passare attraverso la maglia nella quale sono entrato ed esco fuori di nuovo entro dentro vedete filo sopra il ferro entro dentro recupero di nuovo il filo me lo passo nel davanti e lo faccio passare attraverso e sotto il filo e la maglia che avevo preso prima ancora dentro io spero che vediate bene recupero e passo attraverso la maglia sotto il filo ancora prendo e passo dentro e sotto adesso velocizzo un po per farvi vedere come secondo me e a mio avviso è molto facile lavorare questo tipo di rovescio vedete entro filo sopra entro recupero e passo attraverso filo sopra entro recupero e passo attraverso e si continua adesso faccio un giro a dritto perché sto lavorando in lineare così vi faccio vedere la maglia rasata perché andando a lavorare un ferro a dritto e un ferro a rovescio ottenete quella che è la maglia rasata ok rasata dritto perché poi esiste sul reto sarà rasata a rovescio ancora vi torno a far vedere il metodo alla norvegese continentale quindi filo sopra entro lo recupero e lo passo attraverso la maglia recupero e passo attraverso vedete prendo e passo attraverso e un movimento sia del ferro che del polso una volta imparato andrete spedita entro recupero e passo entro recupero e passo vedete il filo sempre sopra il ferro perché me lo devo portare nel davanti del lavoro recupero e passo entro recupero e passo una volta acquisita la tecnica andrete spedite come dei treni vedete si sta formando la maglia rasata adesso lavoriamo un giro a dritto sempre continentale io mi porto addirittura il filo sul ferro col dito ormai ho talmente quell'abitudine lì che faccio in questo modo altro giro di rovescio sempre continentale con il filo però nel davanti del lavoro cosa fanno? prendono la maglia rovescio passano il filo attorno col dito lo tornano a spingere giù e escono dalla maglia per me è un metodo un pochino più difficile ma perché non sono abituato a lavorare facendo passare vedete il filo attraverso il ferro in questo modo entrano prendo faccio passare il filo attorno ed esco vedete entro il filo passa attorno ed esco fuori ancora in questo modo quindi entro il filo passa attorno ed esco fuori questo perché perché non sono abituato perché devo fare questo movimento col dito e per me viene scomodo faccio fatica a manovrare in maniera corretta questo filo che deve andare in giro in molte usano questo metodo perché sono abituato quindi dipende dalla vostra manualità facciamo così ora facciamo visto che abbiamo fatto la rasata facciamo un po di rasata rovescio quindi torniamo a lavorare il rovescio filo davanti vedete in questo modo si entra filo attorno al ferro e si porta fuori ancora filo attorno e si porta fuori entro nella maglia rovescio filo attorno e porto fuori filo attorno e porto fuori in questo modo un'altra cosa che non mi piace molto di questo tipo di rovescio è il fatto che io non riesca poi ad avere una regolarità nel nelle maglie poi vedete il filo mi sfugge insomma per me non è molto pratico ma vi ripeto sono questioni di abitudini e soprattutto anche di gusti in questo modo filo sopra attorno e si passa giù un altro metodo addirittura le fa a rovescio ritorto cioè filo sempre nel davanti del lavoro ma invece di farlo passare attorno lo prendono da sotto in questo modo e lo passano attraverso la maglia quindi entrano dentro passano sopra sotto il filo e lo portano giù e forse questo è un pochino più semplice vedete lo fanno passare da sotto sotto il ferro e lo portano attraverso la maglia dentro passano sotto e lo portano attraverso vedete in questo modo sotto il ferro e attraverso la maglia sotto il ferro e attraverso la maglia sotto e attraverso la maglia e forse questo qui come dicevo è un pochino più semplice e veloce perché l'unico fra virgolette inconveniente che poi le maglie si presentano a rovescio ritorto e vanno lavorate a rovescio ritorto se no fate poi fatica a prenderle normalmente per lavorarle al rovescio normale ok quindi avete visto filo nel davanti si entra nella maglia si fa un po fatica adesso quindi bisogna prenderle a rovescio ritorto in questo modo da sotto e rifare la stessa operazione quindi non prenderle così ma prenderle da sotto passare il filo e attraverso e diventa per me molto più difficile poi magari mi dimentico insomma io poi ripeto faccio dico le cose che secondo me sono migliori insomma non voglio essere migliore a nessuno che secondo me sono più semplici diciamo così in questo modo faccio un po più fatica però pian pianino si riesce è anche vero che non mi sono mai messo lì e a fare degli esercizi di praticità perché altrimenti forse potrei trovare peggiovamento da questo tipo di tecnica però dipende insomma da come uno è abituato io ho sempre lavorato in quel modo quindi per me è più semplice continuo così bene altro metodo qual è adesso facciamo un giro di dritto così mi ritrovo le maglie in maniera corretta vedete le lavora dritto ritorto perché si presentano un po strane quindi si presentano al rovescio ritorto adesso le sistemiamo in questo modo e vi faccio vedere questa mia scappata vi faccio vedere come lavorare con la tecnica l'inglese che quella che un po conoscono tutto cioè di gettare il filo quindi fino a sinistra entriamo nella maglia metto dall'inglese filo attorno e usciamo entro filo attorno al ferro e porto giù il classico rovescio che conoscete io ogni tanto questo metodo lo utilizzo all'inizio dei capi quando ho da fare dei bordi tipo il collo o se faccio un bottom up un bordo di un fascione della parte bassa del maglione per dare più resistenza alla mia costa quindi se ho un coste 1 a 1 un coste 2 a 2 molto spesso lavoro all'inglese per dare una certa compattezza al mio al mio al mio campione o al mio maglione ancora vedete anche qui ci sono alcune bravissime che non staccano mai il la mano dal ferro come faccio io e riescono tranquillamente a lavorare tenendo sempre il ferro buttando il filo attorno e facendolo uscire fuori io faccio fatica confesso alle mie debolezze perché come dicevo prima non voglio essere migliore a nessuno ma vi dico il metodo che io preferisco e che ho imparato più volentieri e più in fretta è il classico metodo continentale alla norvegese che vi faccio rivedere velocemente dopo ci salutiamo filo sempre nel davanti lo prendo con il mio ferro entro a rovescio nella maglia recupero il filo lo passa attraverso ancora prendo e lo passo per me è quello più semplice che mi permette come vi dicevo di avere una certa regolarità tra le mie maglie questi sono tutti passaggi che poi nel libro troverete vedete se andiamo a vedere guardate come perfetta la parte qui e qui invece che ho lavorato un po con il metodo continentale diciamo classico e con quello all'inglese un pochino più ho una mano diversa vedete più discontinua mentre con l'altra le classiche maglie sono più belle bene grazie per avermi seguito grazie alle ragazze che mi hanno segnalato la voglia di vedere questa questo video di tecnica da più vicino perché volevano imparare meglio e io vi rinnovo sempre il fatto di seguirmi sia sul canale di condividere video ed invitare tante persone ad iscriversi al canale attivate la campanella così ogni volta che pubblico un video vi appare e vi viene segnalato il fatto che io ho pubblicato un video seguitemi su instagram sempre a il venerdì della maglia e vi do appuntamento al prossimo video con il venerdì della maglia ciao ragazzi ciao